Ciao notatori, ecco un esercizio divertente ed efficace che vi aiuterà ad apprendere la tecnica della virata con capriola. Sono sicuro che gli esercizi consigliati nel video precedente vi sono stati utili e ora vi propongo un altro esercizio per perfezionare la tecnica della virata e parliamo della posizione delle braccia. Purtroppo alcuni principianti fanno fatica a fermare e fissare un braccio dopo la penultima trazione ed effettuare la capriola contemporaneamente con il movimento dell'altro braccio, quindi non riescono ad assumere una posizione corretta per la spinta uscita. Come risultato vengono effettuati più movimenti con le braccia che hanno lo scopo di stabilizzare il corpo, aumentando la resistenza e sbagliando completamente la posizione del corpo nel momento quando i piedi toccano la parete. In questo caso viene ridotta la velocità della virata e sbagliata la traiettoria della spinta uscita. Quindi, se anche voi non riuscite a fissare un braccio dopo la penultima trazione e l'altro dopo la rotazione, guardate questo video in cui vi mostro un esercizio utile per migliorare la tecnica della pirata. Allora ci servirà un pull boy. Lo mettiamo tra le cosce e sopra le ginocchia. Guardate, in modo da raggiungerlo facilmente con le mani. Ci mettiamo sull'acqua nella posizione prona e scivoliamo in avanti. Facciamo la penultima trazione con un braccio e lo fermiamo toccando il pull boy. Poi cominciamo la rotazione e prendiamo il pull boy anche con l'altro braccio. Quindi il resto della rotazione va fatta con le mani unite che tengono il galleggiante. Guardate ancora. Uno, due, afferriamo il pull boy e le braccia restano ferme distese parallele alla superficie dell'acqua. Immaginate di dover mantenere il pull poi nello stesso punto. Quindi il vostro compito è nel momento della rotazione riuscire ad afferrare il pull boy con entrambe le mani e mantenerlo nello stesso punto evitando gli spostamenti dalla sua posizione iniziale. Alla fine della rotazione dovete trovarvi nella posizione orizzontale nella direzione di uscita con le braccia distese che tengono il pull boy e il viso rivolto verso l'alto. Poi durante la fase di uscita dovete cambiare la posizione per quella prona girandovi lateralmente. Prima di mostrarvi questo esercizio facile, divertente ed efficace in acqua vorrei aggiungere che questo esercizio lo possiamo inserire nel nostro allenamento. Per esempio quando dovete nuotare una vasca con il pull boy effettuando solo le bracciate alla fine potete eseguire questo esercizio per migliorare la tecnica della virata. Il galleggiante rimane nelle mani quindi al ritorno potete esercitarvi nella gambata a stile. Dopo possiamo firmarci e ricominciare tutto da capo. Per una vasca facciamo solo le bracciate a stile focalizzando la nostra attenzione sulla tecnica di tutte le fasi. Arrivati alla parete facciamo questo esercizio e torniamo effettuando solo la gambata a stile. Sarà un allenamento perfetto. Ecco è tutto, ora ve lo mostro in acqua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rociate a fare questo esercizio. Ciao a tutti. E notate tutti. Grazie a 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 tutti.